Incidente sulla statale 107 nel Cosentino, un morto e due feriti. Incidente mortale sulla statale 107, sul posto nella notte, squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, sede centrale e di staccamento di rende, sono intervenute sulla strada statale 107, incontrata a Malavicina, nel comune di Cosenza, per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Fiat Idea e una Jeep Renegade. Il bilancio del tragico incidente è di due feriti affidati al personale sanitario del suo M118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera e un giovane deceduto. Quest'ultimo viaggiava sulla Fiat Idea, l'intervento dei vigili del fuoco e valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture e al recupero della salma. Sul posto carabinieri di rende e spezzano per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La strada statale 107, nel tratto interessato dal sinistro, è rimasta chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.